A guardarla da fuori, l'Italia parrebbe un paese dalle grandi contraddizioni. L'Istat nel rapporto annuale 2022 parla di 5,6 milioni di persone in povertà assoluta e di 5 milioni di occupati non standard, categorie nella quale rientrano a contratti a tempo determinato, collaborazioni, part-time e involontari. 4 milioni di dipendenti del settore privato guadagnano meno di 12 mila euro di l'anno, quasi un milione e mezzo ricevono una paga oraria inferiore agli 8,40 euro. Dall'altra parte, a leggere il bollettino a Celsior pubblicato il 1 luglio, le aziende hanno programmato tra luglio e settembre ben 1,3 milioni di assunzioni, di cui 505 mila nel mese in corso. Non solo, ritengono che il 40% dei posti rimarranno scoperti a causa dell'insufficiente specializzazione dei candidati. Certo, il 58% dei contratti offerti sono a tempo determinato e solo il 16% a tempo indeterminato, seguiti da quelli di somministrazione di apprendistato, dando implicitamente ragione all'Istat. Eppure viene da pensare che politiche attive più mirate e più efficienti potrebbero sanare l'oiato tra ciò che è e ciò che dovrebbe essere. Grazie. 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 Grazie.